Dà il nome a un intero quartiere, il Torrione, segno che il moncone dell'antico acquedotto romano è entrato a far parte dell'identità storica della città. Partirà entro pochi giorni, dopo dieci anni dal terremoto, il cantiere di recupero di uno dei luoghi del cuore degli Aquilani, danneggiato dal sisma del 2009 e finanziato con 180.000 euro dalla Fondazione Carispac, che si occuperà anche del ripristino dell'agibilità dell'area circostante. La Fondazione raccolse diversi mesi fa l'appello lanciato dal gruppo civico Iemonnanzi con un flash mob per sollecitare enti e istituzioni a recuperare i danni e a intervenire sul degrado circostante. Ora con un gioco di squadra che vede lavorare insieme Fondazione Carispac, Associazione Nazionale dei Costruttori, Comune dell'Aquila, Università e Soprintendenza, il cantiere è pronto a partire. Il progetto di recupero è stato elaborato dal Lancia dell'Aquila che lo ha donato alla Fondazione. Prima dell'avvio dei lavori saranno eseguite le indagini archeologiche affidate al professore di archeologia medievale dell'Ateneo Aquilano, Fabio Redi. Se le indagini archeologiche fa sì che emergano delle importanti testimonianze del passato, ovviamente l'intero progetto andrà rivisto per valorizzare queste testimonianze, altrimenti si mantiene quello che è stato approvato da tutte le filiere degli enti. Per quanto riguarda l'intervento sono di due fasi, uno che riguarda direttamente il manufatto architettonico che viene manutenuto, restaurato e vengono valorizzate in tal senso con opere minimali che non intervengono nella struttura architettonica che è di valore. Poi si sistema anche lo spazio esterno, prospicente e manufatto, con tutta una sistemazione esterna che comprende anche panchine ed illuminazione che è focalizzata al manufatto stesso. Partiranno i lavori a breve, nel senso che noi abbiamo una procedura che è già quella sperimentata con il Parco del Castello, con l'articolo 20 del Cosi degli Appalti, per cui i privati che intervengono su un bene pubblico possono procedere con le proprie risorse naturalmente agli interventi.